Ilaria Cucchi interviene sulla polemica che ha coinvolto il coordinatore cittadino della Lega di Ponte Cagnano-Faiano, Nino Blotta, che due giorni fa ha pubblicato un post sia sul suo profilo sia sulla pagina ufficiale del partito, nel quale ha definito Stefano Cucchi un portatore di morte ed ha rivolto un epiteto alla sorella Ilaria. Il tam-tam delle condivisioni è giunto fino ad Ilaria Cucchi, che ha deciso di prendere posizione con un post di poche righe. Questo, scrive, lo dedico a chi si preoccupa dei post di Casa Massima. Noi famiglia Cucchi abbiamo la schiena dritta e siamo gente onesta. Ciò che più mi fa tristezza è che l'autore di questo post non è una persona qualunque ma ha un ruolo politico. Sono letteralmente basita e triste. Prego tutti di non insultare questa persona, di non farmi questo torto, solo di riflettere e di mandarci un abbraccio. Questo è ciò di cui abbiamo bisogno.